popolo di youtube io sono mustang interista e oggi siamo tornati qui su cuphead è un po' di tempo che non lo faccio non ho avuto tempo poi più anche i video sull'inter insomma mi hanno portato via tempo per la registrazione di questo gioco ma allora e vediamo un po' queste sono le armi che avevo un attimo riprendermi è un po' che non ci gioco ma non lo saprei ok allora avevo fatto il genio l'altra volta e la tizia dei dolci ok allora facciamo il livello che ho visto qua sotto questo è delle montagne russe vediamo che cos'è beppi il clown ciao beppi scontro scontro tra veneti mustang contro beppi c'è una grande differenza però tra noi due mi sono un vero veneto questo è un pagliasso cominciamo si comincia si comincia cosa ah ah giusto avevo anche il coso invisibile non riesco a farla che utilissimo sto coso invisibile dai 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 muori oh signore santo non riesco a capire quando parte oh eh si va va fanculo va paperotta di merda cominciamo bene no io devo far vedere che sono il vero veneto non tu sei un pagliaccio sono morto è arrivato il treno ma con l'ho visto iniziamo bene ragazzi iniziamo bene dai iniziamo veramente bene ma almeno la prima parte l'ho fatta ma ah non riesco a capire mai quando parte sto coso comunque devo sparare anche alle paperotte devo stare attento ah mamma mia eh è difficile sto gioco cazzo me l'ho dimenticato questa che butta anche la lampadina ma guarda che bastardi che sono questa devo farci da su no eh la parata ovviamente che non la fa le vecchie abitudine brutte restano sempre però dai vedi di fare una brutta finta ah questo 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 metti questo e così questi baoni de merda aiuto ma che eh vabbè come fai è impossibile sto clown di merda mi sa che mi darà lui una lezione no io aiuto 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 dai ti sta facendo anche male con questa dai no di nuovo ah ah ho fatto una parata al naso dai che l'ho fatto fuori ho una vita però eh oh sì va bene ma va a cagare musso de merda vaffanculo va era il muso proprio me l'ha buttata dai dai ok dai dai ho capito quando parte più o meno però ci sono le paperotte là sopra che mi danno un fastidio madò muori ma ste cazzo di paperotte questa è una bruta qui dai dai adesso devo sparargli con questa quindi le faccio veramente male dai 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 questi sbavoni guarda oh muori tre vite dai dai adesso dove arriva il musso qua ah sì vabbè però mi arriva il treno cioè dai 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 muori 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 guarda sono qua sotto dai adesso te le prendi tutte te le prendi ah 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 ha ah baiasso ah c'è anche la super è vero non mi ricordo più come si fa un attimo un attimo devo esserci un'altra fase ancora evidentemente ok muori 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 cosa mi rappresenterebbe questo ombrellone oh ma cosa arriva quanto veloce va il treno no scusatemi ma va velocissimo ok adesso 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 muori ma cosa un pinguino muori pinguino no no ma cosa guarda quanto mancava ma dai ma dai ma dai mi prendi per il culo ma sto pagliasso sto pagliasso de merda sa cagare va ti avevo quasi battuto dai e vedi di morire e non farmi fare come il genio della lampada dell'altra volta che sono veramente mi ha portato all'esasperazione oh dai già battuto dai 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 comunque sto ingranando ragazzi avevo due vite no non ho due vite avevo contro l'ultimo mi ricordo più vabbè ma sti baloni con i cani tipo da lì si guarda di super aiuto sono fastidiosi in tasi che ho quest'arma qua e così ho un largo raggio vuol morire dai treno muoviti che dopo mi arriva il musso eccolo dai 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 ce la faccio adesso dovrebbe arrivare di qua oh adesso quanto mai che ti passo adesso guarda pigliatela tutta tutta toh adesso arriva il treno dei desideri dai 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 facciamolo fuori sto sto clown del circo oddio stavo per perdere una vita in modo stupido dai così 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 adesso arriva il treno io gli faccio una bella super perdi 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 ma oh oddio ma perché quattro adesso oh no 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 ma eeeh perché quattro pinguini guarda quanto mancava ancora dai vaffanculo va vaffanculo clown del circo va non te si veneto come mi te si falso ti pepi vaffanculo tutto per battere sto schifo di clown va ancora una volta mi andrò via il video solo per un livello va come sempre e arrivo anche all'ultimo comunque ho capito perché comunque dei pinguini perché l'altra volta glielo ho fatto da basso e mi stava buttando addosso i pinguini probabilmente li ho uccisi tutti tranne uno devo riuscire a uccidere anche quello e poi lo va dai ho trovato la strategia caro beppi sei finito se adesso faccio un se arrivo come prima alla fine con le tre vite sei finito forza forza ecco 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 oh dai 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 perdi perdi porco cane mi ha intrappolato nooo no dai vai a fare in culo eh ho una vita perdi 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 fino a una vita ragazzi eh qua me la sono giocata male ragazzi mi è arrivato il treno dei desideri e non me lo aspettavo ho calcolato male io evidentemente basta ultima fase però con una vita non posso andare da tante niente devo muovermi a farci fuori si ma se il pinguino mi nasce sopra come cazzo faccio come cazzo faccio vado dall'altra parte e allora vado dall'altra parte vabbè ragazzi abbiamo capito anche sto video avrà solo un un boss ma se non sono capace Marta dai non sta attorno e fa il culo dai ma va a fare il culo va schifoso è un clown ma stai al circo va anzi no so mica so so rincretino perché so venivo al circo con da tivara anzi no colpa del diavolo in realtà va a cagare anche la lampadina vaffan... dai 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 no no mi sto innervosendo tanto adesso eh mi sto innervosendo perché cazzo almeno due livelli o tre insomma a video vorrei farlo ne faccio sempre uno porca troia sempre uno ne faccio no adesso devo stare concentrato scusate se parlo poco ma devo stare concentrato arriva il treno dei desideri dai dai se riesco a evitare ma vai dai non ci posso credere che sono atterrato proprio sulla faccia di quel musso ma perché ho due vite ah la lampadina all'inizio dai muori 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 il culo di questo musso schifoso guarda sai trotta trotta su quel musso ok adesso adesso ci divertiamo ragazzi ok però stavolta mi butto a destra ma non li ho uccisi ho sbagliato i tempi allora cioè nel culo mi è arrivata la pallina nel culo e ancora una volta non riesco a vincere dio mio non riesco ancora a vincere è la pallina che mi arriva nel culo vaffancio ma dai ma dai anche la pallina nel culo mi deve arrivare ma dai ma dai ma dai facevo meglio a smettere a non giocare più a sto gioco ma facevo proprio meglio a smetterla no non ha fatto la parata sul naso adesso te le prendi nel culo le ho due vite adesso dai treno non arrivare dai muori 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 dai adesso va bene il treno si dai il treno dei desideri ciao comunque la prossima volta non faccio neanche più le parate perché ho capito devo perdere anche una vita in modo stupido per saltare su quel naso rosso rosa anzi devi perdere devi perdere devi perdere adesso arrivo di qua e te la prendi nel culo tu e i tuoi pi... perché è andato di qua? no 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 popolo di youtube ma stanguizze addio dai datemi il voto di merda chi se ne prega ho vinto b b b così ok ok allora la prossima volta cos'è successo qua si è incantato tutto ok un livello percorso la prossima volta bene ragazzi io termino qua questo altro video agognato di caped spero che il video vi sia piaciuto mettetemi un like iscrivetevi al mio canale se volete seguitemi su instagram ragazzi ci vediamo presto ciao